A volte il segreto per vincere delle sfide straordinarie è sapere che di più importante di un sogno non esiste nulla. La favola di un postino e di un poeta affascinò Massimo Troisi permettendogli di lasciare alla storia del cinema un capolavoro. Roberto Molinaro presenta l'ultimo film di Massimo Troisi su M2O Real Trust. Il racconto di una storia, una storia vera. A tempo di musica. A tempo di Roberto Molinaro A tempo di musica. 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 Grazie per la visione Grazie per la visione